Buon pomeriggio, vediamo cosa è successo oggi sui giornali, ovviamente a quest'ora del giorno ve li devo commentare in maniera un po' diversa, oggi è domenica anche negli Stati Uniti ovviamente il fuso orario è inclemente per la rassegna stampa, ma è molto clemente perché oggi i giornali ci danno una serie di spunti che secondo me possono essere colti con grande diversità rispetto al pensiero unico e comune. Beh intanto devo dire solidarietà, l'ho pensato ieri allo scrittore di Enaudi e questo rende ancora la cosa peggiore, russo Nicola Ilic, non mi ricordo come si chiama, l'avevo capito da un tweet di Andrea Vianello che era il direttore di Re 3 che non sbaglia mai un colpo, cioè lui come tutti quanti quelli del giro di Settembrini quando attacca qualcuno bisogna sempre andare a vedere come quel mondo lì di Settembrini che è quello della sinistra romana che pensa sempre le cose giuste e sbaglia su tutto, lo attacca perché questo scrittore di Enaudi avrebbe sbagliato un apostrofo, cosa che facciamo tutti quanti noi nei Twitter, non l'ha messo un apostrofo, ma soprattutto ha detto che la Boldrini sarebbe amica dei terroristi, una frase un po' forte, però subito pizzicata da Vianello che avrà tutti i programmi possibili e immaginabili su Rai 1 e continuerà ad averli con grande successo, è sempre il termometro il mio amico Andrea Vianello, quando lui fa un tweet guardatelo per capire cosa pensa Roma e perché lo cito in apertura di questa rassegna stampa? Perché la cosa che a me fa più impressione è il titolo di Repubblica oggi sulla strage di Barcellona cioè che il sindaco di Barcellona, che ovviamente si vuole far chiamare la sindaca, che ha fatto la marcia di pace, che è seguita a Pecoroni da quella di Milano, è una cretina è una cretina, non esiste, io non so se c'è un delitto di deficienza, ma una che oggi dice siamo una città di libertà ed è impossibile e impraticabile riempirla di barriere il giorno dopo che proprio la mancanza di barriere ha fatto sì che fossero state uccise 15 persone, 14 grazie alla mancanza di barriere e una che è un cooperante a cui gli hanno rubato la sua povera Volvo ed è stato ucciso da uno di quelli che fuggiva beh ecco questa non solo è una cretina, è una delinquente, meglio noi che siamo governati, ma non lo so insomma certi nostri sindaci, immagino a quelli delle grandi città del sud, insomma penso a quella città che inizia perenne e finisce perì l'amico dei centri sociali o penso anche a quella città che si chiama Bologna che hanno questa ideologia quindi dei centri sociali del buonismo eccetera, mi fa pensare che siamo più fortunati perché a me non lo si occupano dei centri sociali che sono, come posso dire, dei delinquentelli di serie B, quelli che fanno le occupazioni delle case rispetto a questi che sono dei veri e propri delinquenti, ma quando una dice che le barriere non servono e soprattutto veniamo a scoprire come dice Repubblica che un anno fa da Madrid avevano detto a Barcellona mettete le barriere sulla Rambla perché c'è un rischio di attentati e questi si rifiutano perché è la città dell'apertura la città dell'apertura che come dice oggi giustamente poi altro tema che secondo me è interessante e quindi avete già capito cosa ne penso della sindaca Adacolau, per fortuna che rimana in Barcellona ve la tenete cara a Barcellona sta sindaca e speriamo di non imitarla come ha fatto Sala e altri in queste inutili marce della pace e dell'accoglienza. Le due cose sono legate? Sì che sono legate oggi c'è un pezzo straordinario, quello che avrei voluto leggere dai Pane Bianco, dai Galli della Loggia cioè dai giornali borghesi perché da Libero, da Verità e da Giornale sono abituato a leggerli sono scritti molto bene e oggi su un messaggero, complimenti al messaggero, lezzo un pezzo di Gervasoni che dice delle cose straordinarie, dice la Ramblas è il simbolo del fallimento delle società multiculturali non è un caso, dice Gervasoni, che i grandi attentati sono avvenuti nei paesi aperti più multiculturali cioè fintamente multiculturali, Francia, Regno Unito, Belgio, Spagna il multiculturalismo è una minchiata, lo vogliamo capire sì o no, l'abbiamo detto in tutti i modi ma non si può dire perché c'è la ADA, come si chiama, la sindaca di Barcellona bene, altra cosa che dice Gervasoni, non un pericoloso neonazista, ma Gervasoni, un professore moderato che scrive sul messaggero, sapete che altro dice? Non so Giuseppe se non la senti WCupra io non credo a queste catene di internet la nostra cultura occidentale, scrive Gervasoni, non è compatibile con quella dell'Islam va bene? Questo lo scrive Gervasoni, va bene? Lo scrive Gervasoni, non lo scrive il messaggero non lo scrive un pericoloso estremista, Belpietro dicono in un altro pezzo altrettanto bello Gervasoni dice, tutti quanti sono ragazzi, sono ragazzi fino a un certo punto erano una cellula di 12 persone, c'è ragione Belpietro, basta legge oggi l'infografica straordinaria del Corriere della Sera, che aveva provato a fare una serie di attentati compresa la Sagrada Famiglia, avevano comprato 160 bombole di gas per far saltare la Sagrada Famiglia, sarebbe stato scritto in quei giornali peggio dell'11 settembre, da ricordare che la Spagna, l'accogliente multiculturale Spagna fu quella che tra l'altro fu conquistata dagli islamici in un'altra generazione, era terra, Bercellona e quella regione fino al 1492 del potere islamico, quindi lì c'è anche un tema supplementare rispetto a quello nostro. E Marta, l'altro tema che stava sottolineando ora, fondamentale lo coglie il giornale, è che proprio in questo momento Gentiloni parla dello Iussoli. Allora, lo Iussoli è una cosa allucinante, diventare dal paese più restrittivo nei confronti degli Iussoli e grazie al quale a questa restrizione forse siamo anche il paese in cui il multiculturalismo è meno vivo, bene, e che è fantastico, al paese che non vuole rendere più aperto in tutta Europa, cioè mentre l'Europa si sta restringendo sulla questione del multiculturalismo noi stiamo facendo i fenomeni, vogliamo fare il paese più aperto sulla cosa più inutile del mondo. Bello il pezzo di Panza oggi che racconta del fatto, altra questione fondamentale che secondo me è il terzo tema di commento della giornata, in cui Panza dice, ieri mi sono guardato in onda, che io apprezzo molto, anche io, figuratevi, anche se non l'ho visto ancora quest'estate, di Parenzo e del mio amico Luca Telese, dico io, e Panza dice che apprezzano i due ragazzi, ma si è visto che avevano invitato Violante che invece di parlare degli attentati parlano del ritorno del fascismo in Italia e questo non ha permesso di parlare del generale Mori, che su questo dice grande generale Mori, di cui lui si vergogna che l'Italia non utilizzi più qualcosa del generale Mori, perché l'ho intervistato più volte a Virus prima di fare Matrix, e il generale Mori ha detto che un attentato in Italia arriverà e probabilmente sarà a Roma, a Firenze o a Venezia, anche se Roma è la città più blindata di tutti e quindi sarà un po' difficile. Ma la cosa incredibile che dice Panza, ma ci mettiamo a parlare del fascismo oggi, non mi sembra uno dei temi fondamentali in questo momento, così come in realtà dello Iussoli e di Sallusti vi ho parlato, allora poi io mi dico, ma Panza è uno che prevede, a parte scrivere divinamente in video il modo in cui scrive Panza, perché oggi l'avvenire, il giornale dei Vescovi, l'avvenire quando gli volevano far saltare la Sagrada Famiglia, cari Vescovi italiani, anzi caro Tarquinio, direttore del giornale dei Vescovi, mentre volevano far saltare la Sagrada Famiglia cattedrale della cristianità nel paese cristiano d'Europa, sapete di che cosa si occupa dell'avvenire? Ve lo dico io. Tipo Benigni, quando gli dicono, ma lo sai che c'è, quando fa Giovanni Stecchino dice tutto sto casino perché ho rubato una banana e poi in Sicilia dicono che il problema è la mafia, ma il vero problema in Sicilia è il traffico e dice l'avvenire, sapete qual è oggi il problema per l'avvenire? L'apertura? Aspetta, ordinario razzismo, cioè parlano di razzismo l'avvenire e sulla rete si muove la vasta galassia neofascista, ancora segnali di fumo nero avvolgono la vita quotidiana, ma dove vivono questi dell'avvenire? Cioè la vita quotidiana è avvolta dai segnali di fumo nero perché c'è in questa cronaca estiva, ci sono due cretini che hanno dato della negra a una incinta facendo una cosa violentissima e orribile per cui sono stati arrestati o poi un cavolo di bagnino che ha due immagini del Duce, questa è la cronaca nera di ordinario razzismo di quest'estate mentre mettono le bombe e rischiano di far saltare la Sagrada Famiglia, ma da quelli dell'avvenire si sono bevuti il cervello tra ONG e poi sono cavoli loro, io me li leggo perché ho sempre interesse a leggere tutti quanti, Carlo Ossola oggi sul Sole 24 ore affronta un tema anche questo interessante a cui non avevo pensato e cioè che il giorno dopo che è stata perpetrata una delle più gravi attentate in Europa dopo Nizia, dopo il Beggio, cioè sulle Ramblas di Barcellona, insomma non le chiudono, dice niente lutto, ma che modo è di fare, dice Carlo Ossola, fuori dal coro si titola il suo pezzo, dice dovremmo chiudere le Ramblas almeno per 48 ore per rispetto in segno di lutto per le vittime, siamo diversi rispetto ai fondamentalisti, abbiamo rispetto dei morti, non siamo senza nessun rispetto appunto per i morti, insomma devo dire che su questo vediamo che altro, beh del sindaco vi ho parlato, l'ultima questione della giornata è un'altra vicenda che purtroppo sembra ridicola in questa fase diciamo incredibile in cui ci siamo, ma se non fosse non coinvolgesse 40 mila terremotati italiani e non fosse il motivo stesso di esistenza del governo Gentiloni, perché la eco ce l'ho qua nella testa, Gentiloni, non andiamo a elezioni perché il Presidente della Repubblica e Gentiloni dicono che dobbiamo risolvere il problema dei terremotati, io la trovo una cosa ridicola perché il problema dei terremotati non si risolve con un governo ma si risolve con una buona amministrazione, non si risolve con Gentiloni ma si risolve con un commissario che abbia poteri straordinari, beh comunque questo governo ve lo ricorderete nasce, vive proprio per risolvere problemi ai terremotati e Rani che cosa fa? Il commissario totalmente inutile al terremoto si dimette, si dimette prima della sua scadenza naturale che avveniva fra 20 giorni, non so quando sia e il motivo per il quale si dimette è che si vuole candidare con MDP, cioè la frazioncina a sinistra del Partito Democratico, lo stesso Ansaldi, esponente importante del PD dice mi sembra una cosa ridicola, beh insomma è ridicolo come questo governo e quello precedente ha gestito la questione di 40 mila persone terremotate e di città come dimostra il caso Pirozzi e Diamatrice che non solo non avranno gli sgravi fiscali ma del quale non sono state ancora sgomberate le macerie, ecco mentre noi abbiamo tutti questi problemi, le macerie, i terremotati, le esenzioni fiscali ci occupiamo e sta facendolo ora Gentiloni al meeting di Rimini dello Iu Soli nel momento in cui tutti gli altri paesi pensano a ridurre e a rendere un po' più blindate le città, anche su questo l'Italia ne parla perché invece a differenza grazie al cielo di quella deficiente del sindaco di Barcellona, l'Italia le sue barriere le mette nelle grandi strade, non renderà l'attentato in Italia impossibile, è evidente e non si possono mettere barriere su tutto, è altrettanto evidente, ma rendergli un po' più la vita difficile a questi terroristi forse converebbe farlo. Quando ricomincia Matrix e Rica inizia a settembre, dovrebbe iniziare il 12 settembre, io sono lì pronto, come avete visto anche in quest'estate, con una grande voglia di poter fare informazione. Ciao!